L'opinione sia una enorme fesseria. Già ieri stesso, ieri pomeriggi, sia una buffonata. È tutto falso. Stanno cercando di alzare solo la posta tra di loro per ottenere o l'uno o l'altro qualcosa in più. Ma Napolitano oggi ha detto che non è proprio di un'autorità intervenire su un'altra autorità. C'è una divisione dei poteri, il Presidente alla fine non può fare nulla. Lo sta facendo troppo spesso, purtroppo, il nostro Presidente. Infatti gli chiederei di fare un pochettino più di attenzione perché determinate posizioni possono ledere la sua figura in questo momento. Ieri pensavo fosse una frase di Letta. Quale frase? La frase di mantenere, di stare calmi. La frase esatta non me la ricordo, però non sembrava una frase di Napolitano. Cioè Napolitano dovrebbe essere addirittura più super partes? Certo, certo. Deve essere molto più super partes. Alla fine questo governo l'ha fatto nascere lui, gli ha dato le indicazioni, continua a tenerlo a bacchetta. Credo che ci sia un'ingerenza di poteri all'interno del potere esecutivo. Però lui dice che invece non interviene sul potere giudiziario, quindi... Esatto, però due pesi e due misure riguardo alla posizione sulla magistratura. Perché io non mi ricordo frasi pesanti quando Berlusconi montò un palco davanti al suo palazzo, davanti alla magistratura, senza chiedere autorizzazioni. Contro, cioè una parte che si occupa di legislazione del Paese, che va contro un altro potere del Paese che è la magistratura. Non ho sentito parole, le sento solo contro di noi da parte del nostro Presidente. Ma secondo lei il Presidente della Repubblica dovrebbe inviare una lettera alle Camere, dovrebbe intervenire alle Camere? No, secondo me dovrebbe smetterla di ingerire sul Parlamento. E il PDL si dimetterà? Il PDL non si dimetterà, però i cittadini devono fare attenzione alle parole che ha detto ieri il PDL. Perché il PDL non si può permettere di dire diamo le nostre dimissioni e lasciamo un Paese così allo sbando, dopo aver promesso con questo governo le lange intese, aver sbandierato questa responsabilità da anni, questo ce lo chiede l'Europa.